C'è una intuizione. Gli spiriti di Getalsa, Biagio Filardi. Le catene iniziatiche, così le chiamano, girano invece per un altro verso. C'è una intuizione ed ecco che essa illumina anche gli altri membri della catena. Ogni qualvolta che una luce si sprigiona dal trascendente, essa avvolge tutti i membri della catena, ognuno però in modo diverso, ognuno alla sua maniera. E man mano che un componente della catena, un anello, si sveglia, sprigiona luce anche per gli altri, poiché siete tutti collegati, come per dei tubi psichici. Tu hai una folgorazione, un'improvvisa percezione che viene dall'altro capo del mondo. Ed ecco che un altro membro della catena riceve e risolve un suo acquisito spirituale.